Ciao a tutti, ciao Ernesto, ciao Francesca, grazie mille per avermi invitato e per avermi chiesto di leggere un brano del mio romanzo che è qua con me, si intitola Il narratore di verità ed è edito da Liberaria. Prima però vorrei fare una piccola premessa. Io sono molto legata effettivamente sia a Francesca che a Ernesto e tra l'altro ricordo come una delle più belle la presentazione che ho fatto del mio romanzo presso la loro libreria. Tra l'altro Ernesto vive a Parma da molti anni ma è materano. In un'altra vita, molti molti anni fa, io ed Ernesto facevamo parte della stessa comitiva di amici attraverso un gancio comune che era un suo amico, Carlo, che è mio compagno ed è stato mio compagno per 11 anni. Poi io e Ernesto ci siamo persi di vista, lui è andato a vivere a Parma, cosa che ho scoperto solo qualche anno fa in realtà e io ho vissuto in varie città e poi ho scritto questo romanzo. Per cui i nostri destini si sono riallacciati grazie alla letteratura, grazie al libro. Libro che tra l'altro è dedicato a Carlo e così come saranno dedicati a Carlo tutte le mie opere che, quarantena permettendo, verranno pubblicate. Insomma, le sorti sono legate un po' a quello che succederà, le sorti dei miei libri sono legate a quello che succederà dopo che terminerà il famoso lockdown, quando ci sarà la riapertura. Il passaggio che ho scelto di leggere non è casuale. È un passaggio successivo ad una nubifragio che si è abbattuto sulla vallata in cui è ambientata la storia, nubifragio a cui è seguito anche un'esplosione in una fabbrica, per cui ci sono stati feriti, morti e si sono persi molti posti di lavoro. Per cui gli abitanti della valle decidono, con un po' di inventiva, di ricostruire la loro esistenza e il loro lavoro. Per cui, ad esempio, il cratere che si è creato da questa esplosione diventerà un cratere famoso come metaturistica e però spingeranno anche i politici locali a interessarsi delle sorti della vallata per la ricostruzione delle infrastrutture e per liberare il fiume che scorre nella vallata dalle scorie, dall'inquinamento e così via. Vi leggo il passaggio, metto gli occhiali perché sono molto miope. Per rimettere in piedi il caffè della ferrovia partì subito una gara di solidarietà di tutti gli abitanti della vallata. Stettero anche appresso al sindaco affinché intervenisse, come promesso, con contributi straordinari per ricostruire un edificio fondamentale per il trasporto ferroviario dell'intera valle, nonché per la salute mentale e il bisogno di socializzazione dei suoi abitanti. La banda del paese, a cui brani si alternavano degli struggenti a solo del tombettista, tombettista che è stonatissimo, suonò per interenotti sotto la casa del primo cittadino affinché quest'ultimo non cedette. Una petizione fu firmata dall'intera vallata e spedita alla sede della segreteria della macroregione numero 7 per l'acquisto urgente di un impianto di depurazione delle acque refue. Per sicurezza fu mandata la banda anche lì. Caffè e stazione ferroviaria furono spostate un po' più in alto rispetto al fiume. Il binario funzionante era sempre unico, ma ne fu costruito un altro per questione di dignità estetica. Il sindaco battezzò la nuova stazione Scampolo Centrale, un bel passo avanti rispetto al precedente nome di Scampolo Inferiore. Per la stazione del romanzo mi sono ispirata alla stazione ferroviaria di Ferrandina, in provincia di Matera. Questo inorgogliò i suoi compaesani, spingendoli a prendere il treno più spesso e volentieri. Arrivato sul palco per il discorso di inaugurazione della stazione dell'impianto di depurazione, il sindaco saricciò i baffoni, pronto a sfoggiare prodigi alla Dulcamara. «Questo è un grande giorno per Scampolo e per tutta la valle», dichiarò, «e vedrete che è solo l'inizio. Dopotutto», aggiunse facendosi coraggio, «questo nubifragio ha fornito anche l'occasione di dare una bella ripulita a cielo, terra e acqua, o no?». Il pubblico applaudì incerto. Il sindaco mosse le braccia nell'aria come a dirigere una sinfonia. «Liberate gli uccelli, liberateli!». Vennero scoperchiate le voliere. Migliaia di uccelli si riversarono nell'aria e leggerono a lungo sopra la folla, in una nuvola scura, silenziosa, carica di tensioni e di accuse. Poi si allontanarono nel cielo, incipriandolo di color ocra, fino a dissolversi all'orizzonte». Io spero che questo passaggio sia di buon auspicio per la ricostruzione post quarantena, post emergenza, più che post quarantena, e che i nostri sforzi vadano nella direzione di una convivenza meno sadica, meno egoistica, anche masochistica, perché in fondo è molto masochistica, e più altruistica e costruttiva per tutti, per noi, per gli esseri umani, ma anche per gli esseri viventi e il pianeta intero. Speriamo. Grazie e ciao.